Parte con il piede giusto l'avventura dello Scalea in promozione, una vittoria a tutta cuore contro il più quotato Corigliano che cade a lungo buco sotto i colpi di Di Ruggero e Sarro. Un primo tempo di predominanza ospite con Cerrato chiamato all'intervento da Brillante già al secondo minuto. Sembra il preludio di un assedio ma invece i ragazzi di Possidente si riorganizzano e tengono bene il campo rispondendo con qualche accelerazione di Maicon reinventato centrale di centrocampo. In una partita sostanzialmente corretta l'arbitro Paradiso non fa sconti e sventola parecchi cartellini. Alla fine saranno sette gialli e due rossi. Primo tempo senza grandi emozioni fatta eccezione per il gol annullato Arrosi per fuorigioco al 26esimo e qualche brivido dalle parti di Cerrato provocato da Zancaro. La ripresa si apre col gol di Di Ruggero che finalizza una bella azione nata sull'asse Russo-Lombardo. Il numero 11 mette a sedere il suo diretto avversario e sblocca la partita. Tre minuti dopo entra Sarro per scopetta e dopo due minuti dal suo errore in appoggio si scatena lo scontro granata mai con Oliva. Il capitano del Corigliano entra col piede a martello ma il numero 8 biancostellato gli rifila un calcione. Rosso diretto e scalea in 10. Siamo al dodicesimo. Il Corigliano non ne approfitta anzi rischia. Sarro al quattordicesimo non è rapace sull'incertezza di Carnevale. Nonostante la superiorità numerica gli ospiti non riescono a rendersi pericolosi. Qui Meligeni da buona posizione calcia in bocca a Cerrato. Al trentatresimo arriva il Rosso per Esposito probabilmente per qualche parola di troppo al guardaline. In 9 contro 11 lo scalea trova il gol del raddoppio con Sarro. Lanciato direttamente da Cerrato il numero 13 scavalca con un pallonetto il portiere ospite. Siamo già sul finire di gara ma la squadra di Pacino trova il coraggio di accorciare con Granata che ripetisce in rete il gran tiro di Meligeni respinto dalla traversa. Una beffa per gli ospiti perché è troppo tardi. Lo scalea vince con merito alla sua prima di campionato.